Ciao amici, oggi faccio questo video per farvi sentire come suona questo bellissimo pedale che è il FlyRig Acoustic della Tec21 e non mi dilungo troppo nelle specifiche, nelle caratteristiche tecniche, potete andare sul sito della Tec21 e vedere tutti i dettagli e tutte le curiosità di questo pedale. Mi limito a fare questo video per farvi sentire come questo pedale e reagisce a 4 tipi diversi di sistemi di amplificazione, contatto, piezzo, microfono condensatore e pick up magnetico. Suonerò sempre le stesse cose, buona la prima, buona la prima, con dei settaggi più o meno simili per farvi sentire come questo pedale si comporta. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!